Computer e telefoni cellulari sono ormai indispensabili per oltre 8 aziende su 10 in Europa, eppure soltanto nel 24% dei casi si punta l'attenzione sui pericoli dell'utilizzo costante di tali dispositivi. Intanto diventa più folta la schiera dei cosiddetti rischi emergenti per gli occupati che vanno dal tecno-stress alle violenze e le molestie, che possono derivare da una differente modalità di esecuzione delle mansioni. Sono alcuni degli elementi emersi dal convegno ospitato dall'Ineail, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con l'obiettivo di lanciare in Italia la campagna Ambiente di Lavoro Sani e Sicuri 2023-2025, promossa dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, dato che in Europa c'è una percentuale di occupati che usa PC, smartphone e altri dispositivi, pari al 93% nelle grandi realtà produttive e all'85% nelle microimprese. L'iniziativa, che comprende anche premi per le buone pratiche aziendali, punta a diffondere in tutti i Paesi membri la consapevolezza dell'impatto delle nuove tecnologie digitali, concentrandosi su cinque settori considerati prioritari, il lavoro su piattaforma digitale, l'automazione dell'attività, il telelavoro e il lavoro ibrido, la gestione dei lavoratori tramite l'intelligenza artificiale e i sistemi digitali intelligenti.